Tutte le ciliegie che vedete sono destinate ad essere buttate. Siamo a Conversano, in provincia di Bari. La concorrenza dall'estero ha fatto crollare i ricavi degli agricoltori, tanto che è più conveniente lasciarle marcire che raccoglierle. Sì, perché solo il costo della manodopera per la raccolta è di 70 centesimi al chilo e i mediatori della grande distribuzione sono disposti a pagare un euro. E quindi che farà? Le devo buttare necessariamente sulla pianta, non le posso lasciare. Perché se no mi possono rovinare la campagna dell'anno prossimo. I 30 centesimi che restano in tasca all'agricoltore non riescono neanche a coprire le spese delle lavorazioni che ha dovuto effettuare durante l'anno, dalla concimazione alla potatura. La ciliegia è la sicura per tutto l'anno, quindi uno aspetta con ansia, con enfasi, la raccolta e poi viene così scoraggiato. Danila Coldiretti denuncia le storture del mercato ortofrutticolo. In questo caso, a proposito delle ciliegie provenienti dall'estero, spesso non si sa nulla di quali fitofarmaci siano stati impiegati, per non parlare poi del costo del lavoro. La Spagna, la Grecia, la Turchia hanno regole completamente diverse dalle nostre. Le regole devono essere uguali per tutti, altrimenti è normale che si riescono a fare in altri paesi prezzi che noi non potremo mai garantire.